Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, sarà che appena passato Ferragosto, Ferragosto lo chiamano il capodanno dell'estate, è per me anche il vero capodanno, sarà che dopo Ferragosto l'estate volge al termine, non sicuramente il caldo che andrà avanti fino a ottobre barra novembre, però... Non so, voi che sono anche nostalgico, di natura, malinconico, cose del genere, quindi... Sto pensando al tempo che passa, ok? Lo so che è un discorso da vecchi, però giovani non sono. E poi il discorso sul tempo che passo lo facevo anche a vent'anni, a quindici anni, a vent'anni, a venticinque, l'ho sempre fatto. Forse sono nato vecchio, sicuramente sono nato nostalgico, ok? E c'è una cosa che mi chiedo. Il tempo passa, ok? Senza farsi tanti problemi di noi. Al tempo non gliene frega niente di noi. Delle nostre paure, delle nostre ansie, delle nostre preoccupazioni, del nostro cercare di tenerlo aggrappato a certe fasi della nostra vita. Il tempo se ne frega. Il tempo passa e se ne frega. Allora, perché noi restiamo ad aspettarlo? Se il tempo passa senza farsi tanti problemi, perché noi restiamo ad aspettarlo? A sperare che passi il tempo giusto per far qualcosa. Pensavo prima a quante volte ho detto il tempo non è ancora maturo, serve del tempo per guarire certe cose, aspettiamo magari qualche santo sarà, che è una delle frasi che più mi fa incazzare in questa vita. però spesso aspettiamo il tempo perfetto per far qualcosa, il tempo giusto. Stiamo fermi ad aspettare il tempo, che passi quel tempo, che arrivi quel tempo, sperando non so che si fermi e che dica ok, sono qua per te, bene, ma hai aspettato e adesso ci sono. In realtà è che dopo la fine quel tempo passa non ti fa neanche ciao con la mano, ok? Passa e va dritto, ok? Nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore è già passata e neanche te ne sei reso conto. Per questo che in questa notte è un po' malinconica, un po' nostalgica, ma ormai ci metto un po' ovunque, ok? Penso proprio a sta domanda. Perché, ripeto, se il tempo passa senza farci tanti problemi, noi passiamo una buona parte della nostra vita ad aspettare che passi. E buonanotte. Grazie.